Io faccio la parte dell'avvocato del diavolo, sono quello che porta le cattive notizie per quello che riguarda il clima, purtroppo che le conferma perché come sapete di cambiamenti climatici e degli effetti se ne parla da molti anni. Abbiamo cominciato noi meteorologi che giorno per giorno toccavamo con mano queste piccole iniziali variazioni e quando sono diventate macroscopiche se ne sono accorti tutti e quindi adesso diciamo che è un bene che se ne parli però non basta parlarne, bisogna cercare di capire cosa fare perché il cambiamento climatico è qualcosa che non si può arrestare così in un attimo, bisogna uno fare marcia indietro per eliminare quello che lo ha provocato ed è una storia molto lunga e poi le misure immediate di protezione, è un bel lavoro da fare, sicuramente non è facile ma come tutte le cose non facili bisogna cominciare a farle perché sennò aspettare che così che qualcosa cambi da solo non è proprio il caso.